Il giocatore di esperienza sembra una direzione diversa, una direzione composta da quella iniziale. Io voglio sapere, lei che ha vinto tutto quello che c'era da vincere, qual è la formula giusta per tornare alla vittoria? E se è possibile, che cosa l'ha convinta a scegliere la Roma? Grazie. Penso che non solo le riunioni interessanti cambierà la Roma. Noi ci chiediamo di passare quello che abbiamo passato in altri momenti, che non sono stati solo momenti belli, sono stati anche momenti prosi. E speriamo di dare la sua contribuzione e così si fa in caso. Poi speriamo che siano tutti risultati importanti perché vado a una squadra a livello mondiale con una scelta, speriamo di rimanere con questo.